due accorciatori ma che cazzo ti frega come rimane ma che cazzo oh firmo ho fatto casismo ho fatto casismo ma la porta la poppa far andare bene il virale lo spaccando il tuo eh porta la poppa c'è due metri ma è più chiaro si muove massimo non ci va la dentro ma di poppa lancia ma dove